Amiche ed amici della voce di Arzano, questa sera abbiamo deciso di dare la voce anche all'opposizione. Dopo tante manifestazioni in cui abbiamo fatto parlare la maggioranza, questa sera abbiamo scelto uno dei rappresentanti dell'opposizione. Siamo venuti a trovare Salvatore Borreale, consigliere comunale di Arzano Viva. Buonasera Salvatore. Grazie, grazie direttore, grazie a te dell'opportunità che dai a me, dai l'opportunità alla voce dell'opposizione a una delle opposizioni di poter intervenire. Salvatore, partiamo subito con il tema di questi ultimi giorni, la sentenza che riguarda la SECO-SRL. Rischiamo, come dicevamo in campagna elettorale, di portare veramente, ricordo ancora il termine, i libri in tribunale? Stiamo quasi per arrivare a questo punto. Ormai noi ci troviamo in una situazione di predissesto finanziario da oltre un anno e mezzo. Questa sentenza potrebbe essere forse l'ultimo step per poter procedere poi al dissesto finanziario. Certo è una vicenda che parte da lontano, non è colpa di questa amministrazione perché la vicenda parte dal 1989, ha avuto una serie di vicissitudini anche di natura legale, in particolar modo il lodo arbitrale negli anni 90, poi nel 2002 è stato ripreso il disseminare di incarico integrativo e successivamente ovviamente è nata una controversia legale fino ai giorni nostri con la sentenza di Cassazione. La sentenza della Corte di Cassazione non è una sentenza di condanna, questo è meglio precisarlo, ma una sentenza che comunque rinvia a una Corte di appello del Tribunale di Napoli per poter poi decidere l'eventuale condanna oppure un altro tipo di decisione. Certo leggendo la sentenza sembrerebbe già anticipare una condanna, il che significa che l'amministrazione attuale dovrebbe prendere una decisione, avere il coraggio di prendere una decisione, chiamare la ditta seco SRL e trovare un accordo transattivo proprio per evitare di portare il Comune in dissesto. Questo io mi sento di consigliare all'amministrazione. Un consiglio che cade proprio in un periodo dove purtroppo noi auguriamo il presto ritorno a Giuseppe Vitagliano, l'assessore Vitagliano, poi ci manca anche il ragioniere capo. Diciamo che questo macigno è caduto proprio nel momento peggiore. Questo mi dà anche l'occasione ovviamente di fare gli auguri di buona guarigione all'amico Peppe Vitagliano, persona che conosco da molti anni e ovviamente il ruolo che sta rivestendo è un ruolo molto difficile perché la situazione finanziaria del Comune è molto particolare. Certo che la palla, come si dice, è spostata verso il campo della Sindaca. La Sindaca dovrà decidere cosa fare e lo dovrà decidere anche in fretta perché questo è un periodo in cui il bilancio comunale di previsione 2024-2026 deve essere approvato entro il 15 marzo, già doveva essere approvato entro il 31 dicembre. L'amministrazione non ha ancora approvato nulla. Ci troviamo però anche con la situazione del vuoto del ragioniere capo del Comune. È vero anche che oggi c'è un funzionario ad interim che però ovviamente non so se sia in grado di poter portare avanti la situazione difficile del predissesto e quindi portare avanti la questione anche di una programmazione economico-finanziaria. Io auguro ovviamente a Peppe Vitagliano di ritornare il prima possibile e però non bisogna più aspettare perché i servizi purtroppo non ci sono. Mancata programmazione economico-finanziaria significa creare ulteriori disservizi anche ai cittadini. Siamo arrivati al giro di Boa. Che bilancio puoi fare di questa amministrazione a ruta che nonostante tutte le vostre critiche e il tuo pungolo quotidiano continua ad andare avanti con la formazione iniziale? Questa amministrazione è giunta a circa metà della consigliatura se dovessi tracciare un bilancio è un bilancio del tutto negativo perché un'amministrazione comunale deve essere misurata e valutata in base ai risultati conseguiti rispetto pure ai programmi e agli obiettivi che erano stati prepissati. Sembrerebbe da quello che noi vediamo tutti i giorni perché abitiamo in questo paese e lavoriamo in questo paese sotto gli occhi di tutti che un passo avanti non si è fatto anzi forse in alcuni casi stanno facendo troppi passi indietro. La vicenda della sicurezza del territorio e il controllo del territorio sono vicende che in realtà stiamo tornando indietro anzi peggiorano sempre di più. Così come peggiorano sempre di più i disservizi dei cittadini quale può essere quello del trasporto, il trasporto in questo comune è del tutto inesistente così come la questione urbanistica non stiamo facendo nessun passo avanti, la questione dei servizi tributari in realtà non stiamo facendo dei passi avanti quindi la misura che io mi sento dire che questa amministrazione attualmente è totalmente fallimentare. Però c'è un asilo nido che si appresta ad essere inaugurato, i lavori della scuola di Settere, la casa famiglia, l'ospedale di comunità, di prossimità partirà a breve. Cose che sono piovute su questa amministrazione che però ha avuto la capacità di avviarle? Molto spesso le amministrazioni devono essere anche in continuità col passato. Se l'asilo nido è quasi completato ovviamente qualcuno in passato ha lavorato per questo. La vecchia amministrazione, se ricordo bene l'amministrazione di Fiorello Esposito, riuscì a intercettare dei fondi che sembravano quasi persi e quindi se oggi abbiamo l'asilo nido quasi pronto, che poi è mezzo asilo nido, d'altronde chi passa per via Ferrara oppure la parte di via Sanremo troverà che sembra quasi esternamente che non si comprende se sia un asilo nido o un'altra cosa. Dobbiamo ringraziare una vecchia amministrazione che è riuscita a intercettare questi soldi e quindi l'opera si sta completando. Così come per la scuola di via Settere, la ex scuola, che in realtà abbiamo una scuola in più, ringraziare sempre chi negli anni 80 è riuscito a programmare le scuole ad Arzano dove avevamo ovviamente un tasso di natalità molto più elevato rispetto ai giorni d'oggi, quella è una scuola in esubero e quella scuola fu dichiarata inagibile, se ricordo bene l'amministrazione Fuschino 2013 forse e nel corso degli ultimi anni c'è stato ovviamente l'intervento del nostro consigliere comunale di Napoli, l'avvocato del Pito Capasso, che è riuscito in qualità ovviamente di delegato della città metropolitana a portare i finanziamenti su quella scuola e oggi se questa amministrazione apre il cantiere ovviamente qualcuno ha lavorato bene in passato. Ma come sempre la continuità significa che questi lavori che adesso saranno a breve, insomma saranno avviati, qualcuno poi andrà a tagliare il nastro, così come accade spesso chi taglia il nastro non è quello che andrà a iniziare i lavori o a programmare i lavori. Tu sei la vera spina nel fianco, lo possiamo dire, di questa amministrazione. Il tuo è uno spirito dovuto a quello che ha scelto l'elettorato che ti ha relegato all'opposizione? O c'è ancora qualcosa di accredine nelle trattative per scegliere la coalizione e il sindaco? È rimasto ancora dell'amaro, della ruggine? Allora, diciamo le cose come stanno. I cittadini hanno relegato alcuni di noi all'opposizione. Noi ci siamo presentati con una offerta politica dove siamo usciti sconfitti. La nostra coalizione è riuscita a portare sette consiglieri comunali. Abbiamo sostenuto l'avvocata Geopiscopo e stiamo lavorando su questa offerta politica. Il nostro è un ruolo di opposizione perché i cittadini ci hanno relegato in questo spazio, è ovvio, a noi spetta il compito di controllare. Noi stiamo controllando l'operato di questa amministrazione e stiamo cercando di mettere in evidenza tutta una serie di inefficienze e situazioni anche di poco trasparenza. L'abbiamo messo in risalto su più aspetti. La vicenda PUC è una di queste, la questione della situazione finanziaria è un'altra. In realtà il nostro compito è questo, di fare opposizione. Quindi non c'è una credine, non c'è nessun tipo di situazione relativa al passato. Assolutamente. È semplicemente il ruolo che oggi rivestiamo. Abbiamo detto all'inizio di questa intervista che la maggioranza tira dritto con i suoi assessori, compatta, mentre ultimamente, negli ultimi giorni, a destra l'opposizione, stanno volando stracci. È vero allora chi prima di me diceva che il potere logra chi non ce l'ha? Devo essere sincero, se la maggioranza sembrerebbe in apparenza compatta, anche se ci sono delle crepe all'interno della maggioranza, le opposizioni, perché sono opposizioni diverse, noi ci siamo presentati a cospetto dell'elettorato già con proposte politiche diverse, noi abbiamo sostenuto tre liste civiche, abbiamo sostenuto a Geopiscopo, altri hanno sostenuto altri candidati, le opposizioni non devono essere necessariamente tutte unite, l'opposizione deve fare ruolo di opposizione. Mi diceva un vecchio amico consigliere comunale un bel po' di anni fa, l'opposizione si può fare anche con un solo consigliere comunale. Basta saperla fare, basta leggere le carte, basta avere il tempo necessario per poter approfondire delle tematiche, metterle in risalto e comunicarle. Il problema è tutto sulla comunicazione. Dicevo, pensavo alle assunzioni, si sta muovendo anche qualcosa in questo campo dopo anni di fuga dall'ente di Piazza Cimino. Non saranno le assunzioni che vogliamo, che sognano i cittadini magari con bandi, però anche questa mobilità tra enti cerca di portare forze nuove. Anche qui noi abbiamo contestato più volte a questa giunta comunale, anche in consiglio comunale, nei confronti dell'assessore personale. Abbiamo detto che questo comune si trova in una situazione di sottorganico. Molti dipendenti hanno un'età prossima alla pensione. Nei prossimi due o tre anni, dai calcoli che qualcuno ha fatto, probabilmente non troveremo più dipendenti. Ed è corretto ed è giusto. Però avremo una nuova casa comunale. Speriamo di avere una nuova casa comunale. Spero anche che cambino il progetto, non il progetto che hanno presentato neanche poi alla città, perché manca anche questo. Non è stato presentato alla città, è un progetto nei documenti. Il famoso muro di gomma di cui parlavamo nell'ultimo numero. Il famoso muro di gomma, ma anche il famoso, diciamo così, si parla ma nessuno ascolta. Oppure quando si dice qualche cosa, qualcuno possa pensare che ci sia solo strumentalizzazione. affatto. Noi cerchiamo di consigliare, anche dovuto a un fatto di esperienza, di competenza, per avere dei vantaggi nel medio-lungo termine. E questo è un esempio. Ritornando al ragionamento sul piano assunzionale, abbiamo detto sempre più volte di fare concorsi. Nel breve termine la velocità potrebbe portare ad attingere dalla mobilità, ma nel lungo termine noi non accontenteremo i nostri giovani. Arzano è un luogo dove molti giovani si laureano ogni anno. Dobbiamo anche creare una scienza a questi giovani. Se il comune per scelta, ecco la scelta politica, evidentemente questa amministrazione che si definiscono di centrosinistra, dicono di voler scegliere dalla mobilità e non fare concorsi. Quindi significa negare l'accesso ad entrare in una pubblica amministrazione ai nostri giovani arzanesi. Ultima domanda prima di salutarci. Molti ti accusano di studiare da sindaco. Quando arriva questo fine studi? Io non studio da sindaco. Io per il mio lavoro, che da anni faccio anche il revisore degli enti locali, faccio il commercialista, faccio anche il docente. Studio perché studio, ma non studio da sindaco. Vuol dire che ci sono anni di esperienza. Abbiamo fatto anche vita di partito. Noi siamo sempre a disposizione e mettiamo a disposizione esperienza e competenza della città. La città dovrebbe premiare le persone che hanno anche un'idea di città e di una città più vivibile e sostenibile. Grazie a Salvatore Borreale per l'ospitalità nel suo studio. Grazie a te direttore e grazie ovviamente alla redazione della Voce. Noi mettiamo a disposizione lo spazio delle persone che vogliono contraddire o ribattere alle affermazioni del consigliere Borreale. Siamo a disposizione, basta una chiamata. Grazie e appuntamento nei prossimi giorni.